Ciao amiche di filo, oggi voglio mostrarvi come si attacca una cerniera in maniera diciamo semplice ed anche con un risultato perfetto. Quindi avrete poi la possibilità di affrontare con disinvoltura tutti i progetti in cui diciamo è necessario attaccare la cerniera. Vediamo subito. Immaginiamo di dover attaccare la cerniera a due pezzi di tessuto che andranno all'esterno e ovviamente è prevista anche una fodera all'interno. Se non è prevista la fodera ovviamente sarà più semplice. Io utilizzerò per attaccare la cerniera questo piedino che vi consiglio ovviamente di avere. La prima cosa da fare è controllare che due pezzi di tessuto su cui andrà attaccato la cerniera siano tagliati alla perfezione come nel mio caso. Se non è così con una riga come questa oppure come con una riga anche quelle che abbiamo utilizzato alle scuole medie andiamo sostanzialmente a tracciare questa linea alla perfezione e a ritagliarla o se abbiamo il cutter la ritagliamo. Quindi la prima cosa è avere questa linea ben dritta e anche per i pezzi di tessuto della fodera. La mia cerniera in questo caso ha la stessa larghezza del tessuto. Quindi questo è il caso in cui la cerniera ha la stessa larghezza del tessuto. Che cosa faccio? Poggio la cerniera con il cursore sul dritto del tessuto e lo vado a posizionare per bene così. A questo punto è necessario effettuare la cucitura. Quindi alla macchina da cucire prendo questo piedino ed effetto la cucitura. Può essere agganciato o sulla destra o sulla sinistra. Ovviamente questo poi mi dirà qual è la posizione dell'ago in un punto oppure sull'altro. Quando io vado ad effettuare questa cucitura l'ago deve essere il più vicino al cursore. Quindi non vi potete sbagliare. La posizione dell'ago è questa, nel mio caso, alla mia sinistra. Cioè quella più vicina alla parte della cerniera che chiude. Quindi inizio la cucitura normalmente fermando il punto avanti e indietro ed inizio a cucire. Ovviamente qui tolgo questo, cucio, 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 con il punto dritto. Vedete la parte del piedino qui sta a bordo piedino. Quando arriviamo qui in fondo, dopo aver cucito questo, non riusciamo a raggiungere la parte finale. Perché c'è sostanzialmente il cursore. Allora è necessario mandare l'ago della nostra macchina da cucire in basso. Lo puntate in basso ed alzate il piedino. In questo modo, non vi preoccupate, la cerniera e il tessuto non succederà nulla. Solo in questo momento, adesso io metto il dito, spostate questo cursore, lo mandate verso giù, la parte che è già stata cucita. Fatto questo, riabbassate il piedino e continuate la vostra cucitura fino in fondo. E quindi è terminato. Io quando vado ad applicare, devo applicare anche, diciamo, una fodera interna, metto la cerniera così come vi ho detto. Mi raccomando, mettete molta cura nel posizionarlo su questo lato qua. Poi sovrappongo il tessuto che andrà all'interno, quindi dritto sul, su questa parte qui. Sposto le pinzette oppure le, le, le spigli. Però fate molta attenzione che tutti e tre tessuti siano perfettamente allineati. E poi procedo con la cucitura come vi ho appena detto. Non c'è alcuna differenza perché io in realtà, vedete, con il piedino mi muovo come vi ho appena detto. Quando arrivo qui in fondo, alzo questo, da qui sposto il cursore come vi ho descritto. Vi faccio vedere la fase adesso alla macchina da cucire. Datola prima. ecco qui la cucitura che io ho appena fatto sia su un lato che sull'altro ora è fondamentale aprire la cucitura in questa maniera e eventualmente stirare anzi stirare sicuramente in modo che si apre in questo modo ed è necessario allontanare il tessuto dal cursore sia su un lato che sull'altro io lo sposto con le mani e poi metto la spilla lo spillo ecco vedete lo spostate semplicemente con le mani e mettete in questo modo in modo tale che durante l'utilizzo il cursore non incontrerà mai diciamo questo tessuto e quindi non tenderà ad incepparsi quindi sistemo fino alla fine e vado alla macchina da cucire sempre con lo stesso piedino faccio tutta questa cucitura fino in fondo ovviamente per i modifi che vi ho detto ok 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 Grazie a tutti. Ecco qua, anche questa cucitura, vedete? Perfetta, non ho avuto alcuna difficoltà, anzi in questo caso non ho avuto neppure la necessità di spostare il cursore. Ora sul lato opposto farò le stesse identiche operazioni, cioè andrò a sistemare dritto su dritto il lato anche qui, come ho fatto prima lo fisso per bene, mi raccomando allineatelo per bene, queste sono le cose importanti, poi giro e qui andrò a sistemare dritto su questa parte qui rovesce in realtà, e vado sostanzialmente ad allineare per bene i lati, tenete presente che qui devono essere perfettamente allineati cerniera e i due tessuti esterni ed interno. E ora alla macchina da cucire faccio la stessa operazione che ho fatto prima, quindi prima questa cucitura, poi riapro, questo qui e quest'altro e faccio l'altra cucitura come ho fatto questa, allo stesso modo. Ecco qui la cucitura che ho fatto e adesso apro di nuovo il tessuto, sposto i tessuti per bene, li fisso e di nuovo procedo con la cucitura con il punto dritto. Ecco qui fatta anche l'altra cucitura, guardate, la cerniera è perfettamente attaccata e questa è sul retro, ovviamente toglierò tutti questi fili in eccesso, questa è sul retro. Bene amiche, avete visto quanto è facile realizzare, applicare la cerniera? Allora, questo caso qui è il caso in cui la cerniera ha la stessa lunghezza del tessuto, nel caso in cui ho messo una prolunga di tessuto qui sui lati, vi lascio il tutorial al di sotto del video, trovate sempre al di sotto del video il link per realizzare da questo tessuto un bellissimo astuccio, e comodissimo astuccio. Quindi niente amiche, se questo video l'avete trovato interessante, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete questo video ed iscrivetevi al canale. Amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.